Bobo, mi hai appena detto che tu hai provato con la tavoletta in piscina, di nuovo magari niente da fare. Niente da fare. Due metri si parte, poi la riga della mattonella delle piscine, vedo sempre quella. Ascolta, hai 64 anni dove vuoi andare. Ci proviamo, ci proviamo. È scritto qua, sposta il tuo limite. Numero uno, Bobo, sai che per me, te l'ho scritto anche nella lettera, sei un po' il riferimento a livello sicuramente mentale di questo gruppo qua, perché il tuo esempio serve praticamente a tutti. Tu sei la persona che dal punto di vista sportivo di tutti i dieci è un pochino più esperta. Un pochino più esperta, perché qualcosina hai fatto, no? Sì. No, ascolta, perché il triatrona ha 64 anni? Allora, il triatrona è un pallino che avevo ancora, che avevo 15-20 anni fa, però per... Essendo passato prima dalla bici, poi alla corsa, era la cosa che avrebbe chiuso il cerchio, insomma, delle... Ci avevo provato ad allenarmi, però probabilmente non era il momento e lavoravo, il tempo era poco e... Avevo preso un po' di lezioni di nuoto e niente, poi alla fine ho lasciato perdere, però è una delle cose che mi sarebbe comunque piaciuto fare. Ma lì com'è stata? Com'è che siamo venuti in contatto? Cioè noi ci siamo conosciuti tra 20 Iuri Ragnoli, in qualche Ragnoli Day, poi anche tu fratello. Sì, poi ci eravamo trovati appunto a Ragnoli Day, quella serata Wild in Baita, a Serle e niente, poi io avevo seguito Ragnoli Uri un po' per le sue gare, ci eravamo trovati al suo tentativo di doppio Everesting sul Monte Guglielmo e niente, poi... Hai visto sui social? Esatto, l'ho visto sui social e a me quando è scattata la molla, è scattata la molla che da lì ecco, ti ho contattato, ti ho scritto e è partita un po' tutta... Un po' perché era un momento che era un po' fermo a livello sportivo, dopo i miei viaggi, un po' di cose che avevo fatto, però era un periodo che non avevo lo stimolo giusto per partire. E' arrivato questo input e via. Via? Via. Due mesi sono passati, come sei messo adesso dopo due mesi? Sto cominciando a sentire sensazioni buone, ecco, soprattutto nonostante il nuoto sia comunque il tallone d'Achille, un po' la parte debole, però per il resto anche la corsa, il riprendere non è stato facile perché dolorini vari, piccole contratture e così via, però adesso vedo che i dolorini sono spariti e sento sensazioni positive a livello fisico, ecco, sto veramente in nuoto nonostante faccia fatica, cioè nuoto però i tempi sono quelli che sono ma non sono preoccupato per quello. Ma secondo te, tu coetanei, tu hai, insomma, gente che ha passato i 60 anni, secondo te è impossibile? Possibile o no per come lo stiamo facendo noi? No, assolutamente, è una cosa, parlo per esperienza personale, io ho fatto diverse cose che magari, vista dal di fuori, sembrano cose, diciamo, tra virgolette, impossibili. Però lì entra la voglia di voler fare una cosa e l'approccio mentale, senza, io non ho mai avuto, diciamo, preparatori, mi sono sempre fatto tutto un po' da me, però spinto dalla voglia di voler fare questa determinata cosa, che sia la bici, che sia la corsa. Sì, se uno ha questa spinta motivazionale interna, anche secondo me, dal punto di vista fisico, con l'allenamento graduale, piano piano si può fare, tu hai questi momenti nella tua vita, da quello che mi hai raccontato, proprio di spinte, proprio fortissime, come mi ricordo mi è rimasta impressa la prima volta che hai visto su una rivista la Parigi, Brest Parigi, giusto? Esatto, sì. Lì praticamente, com'è che è stata? Avevo letto un articolo su una rivista, era un periodo che appunto frequentando il gruppo ciclisti, il gruppo amatori di ospitaletto, uscivo in bici con loro, però appunto acquistando la rivista, una rivista specializzata, avevo letto di questa, però era appena stata fatta e ho dovuto aspettare il 2003, perché è una manifestazione che veniva fatta ogni quattro anni. chilometri? Chilometri su 1200 da portare a termine in 90 ore il tempo massimo, te la puoi gestire come vuoi, dormire dove vuoi, ecco l'importante è che arrivi nel tempo, non è stilata una classifica, è considerata l'olimpiade del cicloturismo, ecco. I tempi sono comunque abbordabili, però c'è da fare una serie di qualifiche, nell'anno di questa manifestazione devi portare a termine dei chiamati brevetti, uno da 200, uno da 300, uno da 400, uno da 600, poi hai un pass, puoi iscriverti a questa, perché giustamente devi sapere a cosa vai incontro, non puoi partire, vado a fare, anche se non è una gara, però appunto nel frattempo ti rendi conto della cosa. E mi ricordo particolare, particolare curioso che io, mio amico, ci eravamo iscritti a questa, una 500 chilometri in provincia di, in provincia di Milano, ma mai fatto più di 100, 120 chilometri, ecco è stato un incubo, è stato, ci hanno messo più di una giornata, più di 24 ore, era comunque dolori di sella allucinanti, e noi siamo partiti così alla bersagliera, non sapendo cosa andavamo incontro, però appunto da lì ci siamo resi conto e abbiamo fatto tutti i brevetti e poi appunto nel 2003 ho fatto questa manifestazione, questa cosa, sì. Che è stata la prima? È stata la prima, la prima lunga, la prima ecco, perché avevo provato a fare qualche a gran fondo, così via però, cioè non avendo mai corso in bici da giovane, mi sono approcciato tardi a questo, a sport, però appunto quando ho letto questa cosa ho detto questa è una cosa che mi, cioè perché leggendo la storia, la storia di questa, di questa gara, che prima era una vera e propria gara per professionisti, era nata nel 1900 e rotti come gara ciclistica, poi è durata qualche, pochi anni e poi è partita questa, questa manifestazione che deve essere alla diciassettesima, diciottesima, quest'anno è stato l'anno, ogni quattro anni, ogni quattro anni, 2023, questa estate, di solito il mese di luglio, questa estate è stata la sedicesima, diciassettesima edizione. E questo è stato il tuo inizio, poi io ti ho conosciuto grazie a Yuri perché mi ha detto, sai che il Bobo, il fratello di Natale, è andato a Capo Nord in bici, ha fatto la Nord Cape 4000, giusto? Esatto, sì. Sì ma, ti che mi hai capito, questa roba, l'hai tornata anche a Andrea e mi fa. Esatto, e mi è fatto molto piacere, però quando sono arrivato in piazza Ospiteretto c'era il sindaco, amici, e c'era anche Yuri che mi aspettava. Ma quando la prima volta mi ha detto così, per me era un ovvietà perché ho detto, mi pensai, per forse l'annata a Capo Nord doveva tornare da qualche parte a Andrea, perché non avevo capito che eri anche tornato in bici. In bici, in bici, certo. Ma lui me l'aveva detto come per dire tornato a Andrea e mi pensai, vabbè certo, è stato mio là. Invece no, intendeva, è tornato in bici. Cioè tu hai fatto questa gara qua, una manifestazione che partiva da Riva da Garda. Riva da Arco di Trento fino a tramite quattro checkpoint dove dovevamo comunque attestare il nostro passaggio. C'era una traccia da seguire e anche qua la traccia è stata, perché arrivati al Passoresia il Garmin ha cominciato a fare le bizze. Eravamo in quattro, la traccia l'avevo solo io sul Garmin e niente, lo spengo e poi lo riaccendo, ma comunque faceva la procedura, poi si spegneva. Allora cosa faccio io intelligentone? Lo resetto, lo resetto, ho cancellato tutta la traccia e fortunatamente la mia con la nostra compagna di viaggio Milena, che era stata, lei nei suoi viaggi in bici fa anche il cartaceo, un foglio di Excel dove mette tutte le tappe. Avevamo la tappa, avevamo comunque un itinerario, poi avevo salvato le tracce su Google Maps, dunque davamo un'occhiata per vedere se eravamo sulla traccia giusta e niente, alla fine... Si era posto. Eh sì, non era, quello era il problema minore diciamo. Certo, avere la traccia sul navigatore ci avrebbe evitato un po' di perdite di tempo, ma tanto il tempo... l'unico vincolo era per quello dei miei amici che avevano il volo di rientro, io non avevo nessun problema di rientro dunque... Ce l'hai fatta in bici da sola. Esatto, sì. Ed era comunque la cosa che a me interessava, era comunque il fare un'esperienza di viaggio in bici, in solitaria, per quello che ho deciso di fare anche in ritorno. Avevo delle idee in testa, fare fino a Santiago in bici, fare il cammino di Santiago e tornare, fare il cammino di Santiago a piedi e poi tornare in bici, però appunto quando ho letto di questa manifestazione, siccome i paesi del nord sono comunque anche un mio pallino, ho deciso di fare questa e fare anche il ritorno in bici per fare questa esperienza in solitaria. Per quanto mi riguarda, l'esperienza che ho avuto fino adesso succede nelle persone tante volte che hanno questa esigenza di fare un viaggio o un'esperienza importante per loro, però magari non trovano mai l'idea giusta, no? Finché magari, come è successo a te, sfogliano una pagina a caso di un giornale e non hai più il dubbio quando la vedi, no? Cioè penso che tu, sia per Caponord che poi anche per la Parigi-Brest, cioè quando vedi quella roba lì, dici, è questa qua, non hai il dubbio. E anche per me è stato così, le cose che ho fatto sono state quelle più belle, più importanti, non so esattamente come, magari sai, leggi quella cosa lì, l'avrai già sentita più volte, però magari non eri in quello stato mentale, non ti aveva mai preso così tanto. Comunque ecco, tornando a questo gruppo qui, secondo me tu sei un esempio da questo punto di vista qua, mi ricordo una volta in piscina, un martedì, un mesetto fa, che avevi appena finito metà allenamento, noi eravamo verso la fine e non andavi avanti, cioè andavi veramente a fondo, eri stanco morto, e io ti ho detto, oh Bobo, ah com'è qua? Tu sei disato, 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 c'è tutto il caldamo adesso. E lì, c'è tutte le ragazze, i ragazzi che hanno magari il dubbio di dire, non ce la faccio, sono stanco, li tiri giù completamente, li smonti in un secondo, non possono più dire niente, proprio così, basta. E' un po' anche la mia caratteristica fisica, nel senso che sono uno che anche nei miei viaggi, nelle mie uscite in bici, in tutto quello che faccio, ci metto un po' a scaldarmi, poi una volta partito non ho mai dei picchi esagerati, però ecco, è regolare, che mi ha aiutato molto, e anche, devo dirlo, in queste scelte sportive che ho fatto poi, è stata un po' la vita che ho fatto da ragazzo, nel senso che vengo da un'esperienza scout che mi ha formato, cioè fare questa esperienza negli anni 70 non era comunque un privilegio, tra virgolette, perché il fatto di uscire in tenda, vivere all'aria aperta, in quegli anni non era così scontato come magari è venuto negli anni successivi. Il fare questa esperienza, prima da, tra virgolette, da utente, ero seguito dagli educatori, poi a mia volta sono diventato educatore, ho fatto questa esperienza con ragazzi adolescenti, piccoli adolescenti, così via, ecco. E' un po' quella che mi ha formato anche, che ha portato a certe mie scelte in seguito, è stata comunque questa esperienza, prima da adolescente e poi da adulto, che sono stato in questo gruppo fino anche dopo sposato. Non lo sapevo, lo consiglieresti ancora adesso ai ragazzi? Lo consiglierei, però logicamente sono cambiati i tempi, un po' gli approcci, cioè fare una vita adesso, c'è gente che paga per andare a fare, tipo, dei corsi di sopravvivenza piuttosto che noi ci... Gidecai. Ecco, a noi ci davano, soprattutto nei campi estivi o anche durante l'anno, nel campo estivo che durava dai 10 ai 12 giorni, 15 giorni, dovevamo stare via due giorni senza niente in tasca, dovevamo arrangiarci e andare a chiedere a qualcuno se potevamo fare qualcosa per guadagnarci due soldi o in cambio si avrebbero dato da mangiare, ecco, una cosa del genere. Adesso c'è appunto, come dicevo prima, c'è chi paga per fare queste cose, noi le avevamo comunque a costo zero e sono cose che, bene o male, ti rimangono nelle... Abbiamo fatto anche cose un po' da incoscienti, però era comunque... Eh, ma qualsiasi anno di poi... Sì, esatto, non è mai successo niente di grave, dunque. Bene, tornando al triathlon, a livello fisico, avendo tu fatto tanti chilometri in bici, magari anche a piedi, senza il moto, senti, ce l'hai quella percezione che il corpo reagisca in maniera diversa facendo tutte e tre le discipline? È un po' presto, forse. Sì, però mi sono accorto quando abbiamo fatto quell'allenamento di bici e poi di corsa e comunque scendendo dalla bici e mettendoci a corsa i primi 300-400 metri ti sei sempre un po' bloccato, nel senso che cambia il movimento e... Sì, sì. Sì, ecco, ho avuto questa sensazione nel fare il cambio sport di seguito. Hai dolori fisici tu? Adesso no. Mal di schiena? Mal di schiena, niente. Quello, quello, ero un po' incriccato ultimamente, però andando in piscina due volte a settimana mi sento veramente bene. Pressione? Pressione stazionaria. Diabete? No, quello non ce l'ho, fortunatamente niente. Se stano? Sì, ho solo un po' la pressione alta, però quando faccio un po' di sporsi il sistema e anche la pastiglia ho diminuito il dosaggio. Farmaceutiche saranno un po' incazzate. Sì, beh, fa niente. Non si fa niente. Bravo. Come la vivete questa cosa qua del gruppo? Tu sei sempre stato comunque... Cioè le cose che hai fatto le hai fatte in piccoli gruppi? Sì, in piccoli gruppi e il fatto è che comunque il gruppo aiuta, premettiamo che comunque la fatica ognuno la fa per conto suo, dunque il gruppo quando stai facendo gli allenamenti piuttosto che sarà la gara e tutto il resto, la fatica la fai da solo. Aiuta comunque, il gruppo aiuta perché comunque ti scambi un po' le impressioni, dai una mano o dai due parole o ricevi due parole di supporto dagli altri mentre stai facendo gli allenamenti in comune, aiuta comunque soprattutto negli allenamenti che si fanno insieme. Ecco, tutto questo aspetto sicuramente è positivissimo, sì. Bravo, bene. Io direi che abbiamo fatto una piccola chiacchierata introduttiva come ho detto agli altri, magari mi piacerebbe, non so, magari sottodata, vicino a Malta, fare un po' un recap generale, fare un altro giro magari di chiacchierate per capire come sono andati i sei mesi. Però per me fino adesso è andato tutto veramente liscio. C'è qualcuno che vedi o che hai percepito, che magari hai mai pensato che è la famiglia? No, per il momento li vedo tutti abbastanza sul pezzo. Anch'io ce l'ho avuta questa sensazione qua. E secondo me, con più andiamo avanti, io parlo per me, vedo che comunque è chiaro che i miglioramenti li vedi, ne vedi poco i miglioramenti perché mettendo insieme tutti i tre gli sport avanzano, avanzano molto limitatamente. Però sarà una crescita, abbiamo ancora quattro mesi e penso che comunque, ecco io sto facendo oltre i tre allenamenti di gruppo, sto facendo anche altri allenamenti per conto mio perché ho bisogno di... Lo senti che ne ho bisogno? Sì, ne ho bisogno, ecco, poi appunto essendo in pensione ho tempo, non mi pesano dunque posso scegliere se proprio ne salto uno, ho sempre il recupero, ho sempre la giornata di recupero. Bene, bella chiacchierata, andiamo a nuotare. Andiamo a nuotare, dai. Dai, facciamo così, oggi 1.500, dividiamo da 250 metri, facciamo 250 subito stile libero normale, libero, 250 probabilmente diviso fra esercizio di gambe, 250 con le pinne, 250 tavoletta e il resto nuoto libero fino in fondo, fino al 1.500. Vamos. Vamos, andiamo. Ciao. Ciao.